Il talento della giovane pianista Giulia Toniolo alla Camu, la casa della musica di Arezzo nel palazzo di Fraternita dell'Aici in Piazza Grande. Ho suonato per varie rassegne sia in Italia sia a Londra, adesso sto iniziando a poter esibirmi in qualche concerto in Italia per esempio alla primavera di Baggio, al Teatro di Napoli per il bel mese di maggio ed altre importanti rassegne. E' così tornata la nuova stagione concertistica dell'Associazione Le Sette Note, 10 i concerti in programma sino al prossimo maggio, molti dei quali dedicati ai giovani talenti. La prima ospite, distanza a Londra, ha proposto un ricco repertorio. Una sonata di Haydn in Don Maggiore che è stata composta nel 1794 a Londra da Haydn, come secondo pezzo la Barcarola in Fadiesis Maggiore di Chopin e per finire la sesta sonata Opera 82 in La Maggiore di Prokofiev.